Oggi per inaugurare il tempo in cui il Presidente Iole Santelli ha avuto contezza di vedere quello che è la Regione Calabria, noi siamo qua per proporre alcuni punti programmatici perché secondo noi cambiare si può, si deve, non possiamo più dare alibi a nessuno sulla sanità pubblica, sui trasporti, cioè tutte le criticità che ci sono in Calabria. In questo momento vogliamo offrire il nostro sapere, la nostra cultura politica per e non contro. Innanzitutto facciamo dei punti sul piano sociosanitario e siamo l'unico partito che ha fatto un piano sulla questione della sanità che vogliamo regalare a gratis chiaramente all'Onorevole Santelli sui trasporti, dei trasporti ecosostenibili. Faccio un esempio per tutti, l'unico aeroporto come quello di La Mezza Terme che non è collegato con la ferrovia. Abbiamo gli aeroporti che sono ormai Jurassic Park per dire una cosa un po' inosueta, però noi siamo per rifare un discorso sul discorso dei piani, dei trasporti, aeroporti, porti e alta velocità chiaramente. E pare che anche in questo momento ci dà ragione l'economicità delle cose. L'unica cosa sulla sanità, un punto in particolare, in cosa si dovrebbe... Beh, innanzitutto siamo per una sanità pubblica, non una sanità di venti regione e vogliamo chiedere all'Onorevole Santelli come Presidente della Regione Calabria di fare un laboratorio politico per contaminare tutti e tutti su una sanità che sia italiana e non di venti regione. e abbiamo visto quello che sta succedendo.